Lavoro in testa, sembro il signore E' divertente Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo vlog Fatto così perché mi andava Cioè sono messo a pecorina praticamente Sto aspettando il primo negro che passa Ma sono qui oggi per fare questo vlog così Messo in questa posizione sarà per annunciarvi di nuovo Che ci farà un altro evento a Milano Giorno 23 marzo in via Garofalo 31 Negli studi di Every Eye Praticamente sono gli stessi studi dove feci l'anno scorso Quello di Watch Dogs Andremo appunto nei studi di Every Eye insieme A provare in anteprima il nuovo videogioco Ride Che è un videogioco simulativo di moto Quindi una simulazione di moto molto molto figa Una 9p e quant'altro Un gioco abbastanza interessante che andremo a provare insieme Sulla piattaforma PS4 Sarà dalle 15 alle 18 E siete invitati tutti Milanesi e non Quindi venite perché altrimenti vi spacco la faccia Cosa andrò a fare? Una cosa figa che voglio fare lì all'evento È registrare un gameplay Mentre io gioco effettivamente a ride E registrare un gameplay con tutti voi Sarà una cosa abbastanza figa penso Spero di riuscire a farla Io ci provo però Venite così lo scopriremo insieme Se riuscire a fare questa cagata Poi ci sarà la stream su Twitch Per un po' di tempo E quindi sti cazzi È fighissimo fare i vlog così cazzo È una gran figata In descrizione qui vi lascio il link Per partecipare all'evento Mi raccomando cliccatelo Ovviamente cliccate partecipa Solo se venite Perché i posti sono limitati Sono massimo 80 posti Quindi i primi 80 Appunto avranno l'accesso all'evento Comunque venite appunto In via con l'uffalo 31 Che è nelle Se non conoscesse magari la via È nelle zone di piazza Spromonte Una cosa del genere Dovrebbe chiamarsi Non sono di Milano Però per giù inizio a conoscere le zone Perché ormai praticamente Posso fare residenza Sono lì Quindi ragazzi Per questo breve vlog Al contrario Sì al contrario Era tutto Se venite Lasciatevi un bel mi piace Anche se non venite Lasciatevelo lo sesto Per fare altri vlog così Partecipate all'evento Venite giorno 31 No giorno 31 Venite in via con l'offalo 31 A Milano Giorno 23 Dalle 15 A 18 Per giocare insieme a Raid Questo nuovo videogioco figo E Ciao Per fare sta cazzata Mi è salito il sangue in testa